Il 27 novembre l'aereo di Papa Francesco atterrerà a Yangon, la capitale del Myanmar, prima tappa del suo terzo viaggio in Asia e primo nell'ex Birmania, colonia britannica, fino al 1948. Il Papa incontrerà la piccola comunità cattolica, 700.000 persone su 51 milioni di abitanti nella messa del 29 novembre al parco Chai Kassan e poi i giovani e i vescovi nella cattedrale di St. Mary. Ma gli occhi del mondo saranno puntati sui suoi incontri con il presidente della Repubblica Itin Chav e con il consigliere di Stato e ministro degli affari esteri Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991. All'arcivescovo di Yangon, il cardinale Charles Maung Bo, abbiamo chiesto quali progressi democratici ha fatto il Myanmar dopo le libere elezioni di due anni fa che hanno interrotto formalmente il regime militare. Con San Suu Kyi ci sono stati progressi nell'amministrazione pubblica, nel campo dell'educazione e del livello di vita. Si rileva che molta strada è stata fatta in questo senso, sebbene i militari controllino ancora la maggior parte del territorio e siano ancora molto potenti, malgrado i molti progressi, vediamo che comunque la nostra democrazia è ancora in una fase iniziale e molto fragile. Le religioni hanno un ruolo fondamentale nella ricostruzione morale del paese. Lei crede che si potrà collaborare davvero per questo? Non abbiamo conflitti o difficoltà con i buddhisti, i musulmani o gli altri cristiani. Quando la notizia del Papa si è diffusa nel paese si sono sentiti commenti molto negativi anche da parte dei monaci buddhisti e tra monaci estremisti buddhisti, ma che comunque sembrano essere favorevoli all'arrivo del Papa. Al Papa chiederò che incontri alcuni leader religiosi, sebbene formalmente non sia in protocollo, appartenenti a tutte le varie religioni, buddhisti, musulmani, hindu, cristiani, tutti insieme, e chiederò anche se può incontrarli e si ne agenda, privatamente. Non che il Papa debba promuovere quanto ha fatto, ma perché entri in dialogo con loro. Forse riuscirà ad ammorbidire il loro cuore e questo potrebbe essere il primo passo per la pace. Il Myanmar è ancora segnato da molti conflitti e violenze tra i militari che il governo non riesce a controllare e diversi gruppi etnico-religiosi come i cristiani nello stato di Kachin e i musulmani Rohingya in quello del Raikan. Alberto Quattrucci della comunità di Sant'Egidio è appena rientrato dal Bangladesh e da Cox Bazar, la cittadina al confine col Myanmar che ospita i più grandi campi profughi improvvisati dei Rohingya, in fuga proprio dalle violenze dei militari birmani. Una fuga iniziata nel 1982 quando il regime militare birmano ha tolto la cittadinanza ai musulmani Rohingya e dalla fine di agosto ad oggi sono arrivate in Bangladesh più di 600.000 persone. Il rappresentante della Sant'Egidio ha portato medicinali, macchinari sanitari e alimenti di prima necessità, ma sta arrivando l'inverno. C'è un campo che si chiama Kutupalong dove sono quasi 500.000 persone, è più grande della città di Firenze, tutto però sotto piccoli drappi di plastica tenuti con dei rami secchi sopra se no il vento si riporta via. La situazione è di gente in cui ancora manca cibo, mancano in questo momento anche vestiti perché cominciano con le piogge a diventare tutto fango, la notte la temperatura si abbassa, mancano medicinali, ci sono infezioni perché non c'è acqua. 250, forse 300.000 bambini, sono famiglie numerosissime, molto piccoli, totalmente nudi che muoiono perché bevono l'acqua del mare. Molte NGO hanno cominciato a lavorare, manca assolutamente un coordinamento e c'è un grande bisogno, non solo ovviamente immediato e poi anche con un grande punto interrogativo sul futuro di questo popolo di Rohingya di oltre un milione ormai di persone. Non mi piace parlare di genocidio o di pulizia etnica, ma ci sono state molte gravi violenze quando i Rohingya attaccavano gli avamposti della polizia. I militari del Myanmar hanno risposto in modo molto violento, con attacchi sui militanti, che hanno risposto contro i militari del Myanmar, ma su scala non paragonabile, con attacchi su scala ridotta, cui i militari hanno reagito in modo molto aggressivo, con bombardamenti, uccisioni, incendi. Questo non sarebbe dovuto succedere e certamente, personalmente, pensavo che Aung San Susi avrebbe parlato prima, mentre si è espressa dopo, cercando di seguire le raccomandazioni di Kofi Annan. Ma per il futuro quale può essere la soluzione per questa popolazione? Cercare di integrarsi in Bangladesh oppure rientrare in Myanmar? Quello che loro chiedono ovviamente è avere la cittadinanza di nuovo per poter tornare nel Rakhine, quindi poter tornare nelle loro case e quindi tornare indietro. Questo potrebbe essere il futuro, ma questo è molto improbabile, molto difficile da quello che si legge, da quello che si sente, perché pare che quella zona per il Myanmar ormai sia zona in qualche modo già data ad altre destinazioni, da un punto di vista economico. La mia impressione, anche se relativa a un primo viaggio, è che loro possono integrarsi molto bene in Bangladesh, non solo per un problema di lingua, anche per un problema di fede, di religione islamica, ma anche perché effettivamente sono gente che lavora molto. E tra l'altro in una situazione del Bangladesh, che è così povera poi in generale come paese, potrebbero costituire in qualche modo, grazie ai tanti aiuti internazionali, perché in qualche modo i riflettori che oggi puntano su Rohingya e in realtà puntano anche su Bangladesh, quindi si potrebbe trovare in qualche modo una possibilità di futuro comune. Io parlavo con questo direttore sanitario di questo ospedale statale di Cox's Bazar, che è la cittadina intorno alla quale, soprattutto al sud, si sono creati questi campi profughi. Cioè è un ospedale che cade a pezzi, è un ospedale che necessita di tanti aiuti, di macchinari, necessita di letti. Quell'ospedale potrebbe essere ricostruito con l'intervento internazionale, non è complicato, i costi non sono alti. E quindi potrebbe esserci sviluppo per il paese e insieme vita e futuro per Rohingya. Questo secondo me è una formula molto importante. Certo, si tratta di una volontà politica, di una saggezza, che in questo momento sarebbe una cosa estremamente di un'intervento internazionale.